Un'azione congiunta dei carabinieri di Sciacca e Menfi e dell'ufficio circondariale marittimo ha portato al sequestro dell'intera banchina di ponente del porticciolo di località Portopalo di Menfi. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal Tribunale di Sciacca su richiesta della locale procura della Repubblica e ha interessato lo specchio acqua antistante alla banchina che si estende per oltre 300 metri ed una ottantina di imbarcazioni ormeggiate illecitamente con i relativi massi immersi utilizzati per l'ancoraggio. In pratica viene contestata la modalità di ormeggio delle imbarcazioni in quanto prevede l'abusiva installazione di un copioso numero di massi in spregio alla vigente normativa demaniale e di carattere ambientale. A vietare questo tipo di ormeggio anche un'ordinanza del circomare è in vigore dal 2016. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Sciacca hanno fatto scattare dunque il provvedimento di sequestro preventivo dell'intera banchina di Portopalo, mentre ai diportisti sono stati contestati i reati di invasione arbitraria di fini dell'occupazione di uno spazio di demanio marittimo e occupazione abusiva di zone portuali in quanto nell'area interessata nessun soggetto risulta in possesso della necessaria concessione rilasciata dall'assessorato regionale al territorio ambiente. I diportisti, quasi tutti i locali, sono stati diffidati a rimuovere le imbarcazioni. Il porto della località Portopalo di Menfi evidenziano le forze dell'ordine e rappresenta un funzionale approdo per gli utenti del mare in un tratto di costa di indubbia bellezza meritevole della massima tutela. I controlli da parte della Guardia Costiera di Sciacca e gli ordini del comandante Giuseppe Giannone saranno intensificati nei prossimi giorni in tutto il litorale di competenza e attesa anche l'ordinanza che, come ogni estate, disciplinerà l'attività balneare.